non vi avevo visti vabbè ciao benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo qui in questo video vabbè in questo nuovo video perché perché lo dovevo fare perché perché non lo dovevo fare lo dovevo fare non dovevo fare perché si dice che pogba pogba torna alla io e ieri quando quando ho letto la notizia sono un football vabbè ho urlato tipo per un'ora e mezza vabbè non parliamo più di questo cioè non parliamo cosa ho fatto ieri a urlano ho trovato qualche notizia su un football che praticamente diceva che la destinazione preferita di pogo è torino io ho iniziato a dire ma allora questa cosa è vera è vera sì è vero ora bisogna vedere se arriva il polpo il polpo vol vabbè poi si dice che di maria juve non credo poi arturis per me di maria juve nuovo indizio social il post di sole ma beh, poi oltre a Pugba ci parla solo di Pugba la lasta di la lasta di Allegri, la lista di Allegri i colpi per tornare al top dai, vediamo ok, partiamo subito, il primo è e il primo è Paul Pugba si spera, poi Di Maria che è una grande opportunità e gli piace molto di Allegri come giocatore, poi ci sono due nomi per il centrocampo e sono Sergei Linkovic-Savic e Paul Pugba e poi serve un difensore centrale che possa andare a prendere il posto di Chiellini tre supercolpi per per la Juve capace dicono, capace di puntare fino allo scudetto ma non credo poi perciò praticamente Milinkovic Pogba e Di Maria Milinkovic Pogba che è quello meno ok Pogba più vicino alla Juventus il PSG doppia la Juve per Pogba è più vicino la Juve Pogba Pogba Pogba